L'Economia dell'età della pietra di Marshall Salins è un classico della storia dell'antropologia, della storia delle scienze sociali più in generale del Novecento. È anche un saggio di vera sorprendente attualità. Fu pubblicato la prima volta nel 1972, circa 50 anni fa, ed è il risultato di un decennio di studi che Salins condusse in parte negli Stati Uniti, in parte in Francia. Negli Stati Uniti dove si era formato alla scuola di illustri antropologi come Leslie White, come Julian Stewart, il fondatore dell'ecologia sociale e soprattutto alla scuola del fondatore della scuola sostanzialista, cioè Capolani, dove il sostanzialismo, la scuola sostanzialista si contrapponeva a quella formalista o economicista che prevaleva, dominava nella antropologia economica del tempo. L'altra parte della formazione e degli studi di Salins avvenne in Francia, a Parigi, al famoso laboratorio d'antropologia sociale diretto allora da Claude Lévi-Strauss, che era stato fondato negli anni venti da Marcel Moss. Qui Salins si trova a lavorare con i giovani allievi di Lévi-Strauss come, è doveroso ricordarlo, Pier Clastro, Pier Clastro che con Salins, che era di poco più anziano di lui, strinse una forte amicizia. Questi studi, questo decennio di studi rappresenta la struttura intellettuale del lavoro di Salins, del libro di Salins. Adesso si aggiungono, cruciali nell'economia del libro, le ricerche sul campo recenti, degli anni Sessanta, alle quali Salins attinge a piene mani. Sono le ricerche di antropologi come Richard Lee, che aveva studiato per lunghi anni sul campo la vita materiale dei Boshimani del Karahari, i quali consentono di offrire di queste organizzazioni materiali della società una visione profondamente diversa da quella che aveva dominato, che era prevalza fino allora nell'antropologia. Quella che vedeva nelle società primitive, nelle società tradizionali in generale, essenzialmente della società della miseria. Una visione, un'interpretazione di queste società che era nata nel 700, a metà del 700, soprattutto con il fondatore dell'economia politica, cioè Adam Smith, dove queste società venivano viste essenzialmente come società della miseria, dove il raggiungimento della sopravvivenza era possibile attraverso un assidio lavoro che durava l'intera giornata e che garantiva soltanto una precaria sopravvivenza. Ora le ricerche sui Boshimani dei Karahari, come altre ricerche condotte da antropologi negli anni 60, mostravano che la realtà era ben diversa da questa rappresentazione. Mostrava di società le quali avevano ritmi di lavoro lenti, ore di lavoro limitate, inferiori a quelle che conosciamo anche nelle nostre società, con frequenti interruzioni, quindi una rappresentazione del problema della sopravvivenza materiale che non aveva le caratteristiche drammatiche che tradizionalmente gli veniva attribuito e non era, non appariva come un'attività centrale, cruciale che copriva l'intera attività di queste società, anzi un'attività parziale e limitata. Ora, queste ricerche vennero presentate al grande pubblico in un convegno che si tenne nel 1966 a Chicago, che poi venne pubblicato due anni dopo, nel 68, in un volume che ebbe poi un'enorme diffusione, un enorme successo, dal titolo Mandy Hunter, l'uomo cacciatore. Nelle relazioni lì presentate vi è anche una breve relazione di Marshall Salins, breve ma importantissima, perché in essa Salins delinea, interpreta, interpreta da una concettualizzazione di queste realtà che la ricerca etnologica mostrale, ovvero Clastra definisce queste società come società dell'abbondanza o dell'opulenza materiale. Questa è la tesi centrale nel volume del 72. Le società primitive non come società della miseria, ma come società dell'abbondanza materiale. Com'è possibile? Com'è possibile questo? I pilastri dell'interpretazione di Clastra sono sostanzialmente due. Il primo è il riferimento alla strategia che queste società, queste comunità adottano nel risolvere il problema materiale. Clastra, scusate, Salins in modo molto efficace definisce questa strategia come una strategia zen. Cosa intende con la strategia zen? Una strategia in cui gli individui consciamente limitano i propri bisogni. Limitando i propri bisogni si può disporre di una grande abbondanza materiale. Il secondo pilastro dell'interpretazione di Salins, che si affianca al primo, anche qui con un'espressione molto efficace, Salins lo definisce il contratto sociale primitivo. Cos'è il contratto sociale primitivo? Salins si rifà alla terminologia e alla tradizione della filosofia del contratto sociale, della filosofia settecentesca del contratto sociale, ma al contrario di quella tradizione in cui il contratto sociale si fondava sulla costituzione dello Stato. Salins sottolinea una rilettura estremamente originale e interessante del saggio sul dono di Marcel Moss. Individua nel contratto sociale primitivo una peculiarità. Il contratto non avviene attraverso la fondazione dello Stato, ma piuttosto l'analogo del contratto sociale primitivo viene individuato nel dono. Una società che si costituisce, che stabilisce le relazioni tra gli individui attraverso la reciprocità permessa dallo scambio di doni. Quindi il dono diventa la categoria esplicativa di una società nella quale è possibile poi condurre una strategia zen volta alla disponibilità di un'abbondanza materiale. Dubbiamente un'interpretazione rivoluzionaria a quell'epoca che venne proprio per questo molto discussa, che si cercò di contrastare e che le ricerche dei 50 anni successivi in realtà non hanno fatto che ancora confermare. Nell'introduzione a questa edizione del libro un grande antropologo purtroppo da poco scomparso, cioè David Graeber, ha sostenuto che per questo libro Salins meriterebbe il premio Nobel per l'economia. Affermazione ovviamente provocatoria, apparentemente paradossale, ma non poi così tanto. Certo, Salins meriterebbe il premio Nobel per l'economia se l'economia fosse, diversamente da quello che ancora prevalentemente è una scienza sociale, una scienza sociale la quale, per dirla con Salins, che usa il termine di economia antropologica, fosse una scienza economica che vede l'economia come una categoria della cultura. Questo è essenziale per poter rappresentare le differenze, le autonomie, le diversità, la divisione delle diverse società rispetto al problema economico, che non è sempre lo stesso, sempre rappresentabile nello stesso modo per le diverse società. Categoria della cultura, questo è essenziale. Se così fosse, allora certamente, se questa fosse l'interpretazione, il modo di concepire l'economia capace di affermarsi nella nostra società, certamente Salins meriterebbe il premio Nobel. Ma questo ci permette anche di concludere su quello che all'inizio dicevo, cioè sulla sorprendente attualità di questo libro. Un libro che oggi insegna, più che allora forse, ci dà degli insegnamenti utili alla soluzione o all'inquadramento in primo luogo e alla soluzione dei problemi dell'oggi. La visione, l'interpretazione della civiltà materiale delle società selvagge, per usare il termine del Settecento, che Salins ci offre con questo libro è un'interpretazione che consente di vedere nella soluzione dei problemi economici adottato da quelle società un riferimento, una lezione, un modello per affrontare i problemi dell'oggi. I problemi dell'oggi sono le grandi crisi che ci attanagliano, non solo la crisi economica, la crisi ecologica, la crisi ecologica che oggi conosciamo. Seguire una strategia zen rispetto al problema economico equivale, abbiamo detto, a limitare i propri bisogni, così da disporre di una grande abbondanza. Ma limitando i propri bisogni si limita l'accumulazione, limitando l'accumulazione si limita lo sfruttamento della natura, cioè dell'ambiente, si affronta in modo, per usare un termine oggi molto utilizzato, in modo sostenibile il problema ambientale. Ecco, riflettere sulla civiltà materiale di un periodo così lontano da noi, in realtà può offrirci delle indicazioni per affrontare i problemi che oggi mettono in discussione l'esistenza stessa dell'essere umano e del nostro pianeta.